ciao a tutti ragazzi allora vi dico subito che a breve uscirà anche un unboxing qua sul canale perché ho mandato prendere alcune cosine dalla juventus store e questa mattina insieme a chino abbiamo registrato l'unboxing e l'ho già editato ma prima di tutto volevo portarvi questo altro video perché è appena terminata la conferenza stampa di massimiliano allegri e non ci sono state delle clamorose notizie delle informazioni di cui discutere tranquillamente qualcosa sì però niente di allucinante ed è per questo che vi invito ad andarla a recuperare su one football il link per scaricare one football è qui sotto in descrizione fatelo assolutamente perché oltre a capire chi sarà convocato e chi no tipo di bala non è convocato invece gioca dal primo minuto moise che tante altre informazioni che dato allegri attenzione che c'è anche quadrato rifidato potrebbe non essere della partita one football gratis qui sotto in descrizione ci proietta anche alla notizia della giornata la juventus ha completato al 100 per cento l'aumento per il capitale di 400 milioni gratis one football e dopo aver lasciato anche un mi piace di supporto a questo video in attesa dell'unboxing insieme a chino vado a parlare di due temi due argomenti che abbiamo già trattato sul suo canale ieri abbiamo fatto alcuni video mentre eravamo in sardegna matrimonio di colpo gobbo e quindi voglio ripercorrere il filologico anche qua sul canale perché poi sono tornati fuori per forza di cose anche nella conferenza stampa di allegri visto che sono i due temi della giornata i principali il primo del hit invito a andare a vedere il video da chino se non avete ancora visto per capire un po anche la mia idea io non sono per nulla sorpreso di raiola che se viene fuori con certe frasi penso che parlarne oggi il giorno prima di una partita è dell'ultima partita dell'anno e col mercato invernale quindi non quello estivo che sta aprendo a poco senso a poco senso infatti mi è piaciuto molto allegri che fa il giochino il prossimo passo è il gol di domani sera me lo auguro sarebbe veramente bellissima questa previsione di allegri e veramente mi piacerebbe un sacco il gol di del hit per vedere anche la reazione di del hit lo stadio quindi tifosi sarebbe bellissimo quindi bravo bravissimo allegri con quella semplice battuta di banalità incredibile ad andare ad appiattire completamente un discorso che in questo momento ha poca ragione di esistere poi magari del hit andrà via davvero quest'estate sì è possibile non non vedo niente di di allucinante sappiamo bene che poi gli parte anche la clausola sappiamo che un assistito di raiola sappiamo che sappiamo tante cose io da chino la butto lì non sarei nemmeno stupito di vedere via del hit dentro pogba perché pogba in scadenza perché del hit è giovane quindi ambito da piazze di alto livello perché l'evento si ha bisogno di liquidità perché pogba è un giocatore sulla trentina ed è un nome andare a ripercorrere quello che è stato fuori pogba dentro i guain qualche stagione fa ma con uno zero nelle sborso dato che paul si svincola dal manchester quindi andiamo a vedere poi è presto c'è a parlare di questa roba qua è presto abbiamo domani la partita col cagliari un mercato invernale che arriva bene allegri vecchi volponi non vi credo neanche per un per un istante non vi credo veramente neanche per un secondo no rimarremo a guardare la squadra è competitiva la rosa è ottima non arriva nessuno non vi credo bugiardi mentirosi chi direbbe chiellini non ci credo poi magari recupereremo questo video a termine del calcio mercato invernale e non sarà arrivato nessuno e farà una figuraccia ma io ora mi sbilancio ci metto la faccia non vi dico che al cento per cento ufficialmente perché mi hanno detto che no sensazione personale bugiardi bugiardi che non siete altro vi ride anche il sedere non ci crede nessuno soprattutto dopo l'aumento di capitale complicato completato che attenzione non significa che la vivente un sacco 300 milioni per il mercato no ma che sia andata a sistemare a quella situazione economica che poteva essere un danno anche per il futuro quindi la vivente non è che ora naviga nell'oro tutti i soldi del mercato no no non è così ma bugiardi che non siete altro bugiardi politicamente corretti bravissimi a parlare ma bugiardi parliamo invece del cagliari perché è la situazione secondo me più importante lo sapete come lo penso mi piace parlare delle conferenze stampa mi piace parlare del calcio mercato mi piace analizzare le partite ma quello che mi piace ancora di più è il campo e il campo ci dice che domani si gioca col cagliari e anche qua mi sento di dire bravo allegri perché va a toccare alcuni tasti importanti poi lo sappiamo allegri il massimo ne abbiamo detto anche in questi ultimi giorni è quando contro il carpi al braglia impazzisce si toglie la giacca quello quello lì è l'emblema di che cos'è la pausa invernale per allegri la pausa di natale per allegri perché vuole veramente al 100 110 115 120 per cento una squadra che porta a casa risultati che porta a casa tre punti e anche qua bravo allegri a dirci è vero che il cagliari ne ha presi otto nelle ultime due partite ma attenzione è una squadra con dei giocatori importanti individualità importanti non importanti punti di forza importanti poi guardi la classifica e proprio il campo ti dice che non è una delle migliori squadre della serie a anzi ma attenzione attenzione perché non ha niente da perdere aggiungo io l'altro giorno il cagliari ha twittato un bel post con scritto scusateci ai tifosi sardi per la situazione di quest'anno in serie a quale modo migliore per il cagliari di fare un grosso regalo di natale una tifoseria completamente deluso in questo momento che sta subendo gol la ripetizione da partite su partite quale quale modo migliore questo a torino contro juventus poco prima di andare in vacanza questo sarebbe un regalo incredibile per il cagliari che non ha niente da perdere perché ormai la falsa rega è questa ma ha tutto da guadagnarci chi è che ha tutto da perdere ha due pollici e si stanno indicando i tifosi juventini noi noi abbiamo veramente tutto da perdere a quella partita lì e poi io ve lo dico proprio tranquillamente io non vedo l'ora che ci sia il triplice fischio di juventus scagliari per un motivo perché poi riusciamo a fare delle proiezioni più importanti perché lo sapete bene come lo penso anche questo l'ho già detto sul canale di chino io in questo momento rimango del partito utopia la champions league ok ma vi spiego anche il perché in questo campionato e in queste settimane in questi mesi in questi giorni più partite si giocano e più cose assurde succedono il napoli che perde in casa con l'empoli il napoli decimato che va a san siro e vince l'inter che passa da meno 10 a più 4 nel giro di un mese l'atalanta che vince a napoli vince a torino vince con l'ella se poi perde 4-1 con la roma in casa succedono delle cose troppo strane succedono delle cose allucinanti e quindi è ovvio che questo continuo campionato che è una montagna russa un grafico veramente impazzito impronosticabile settimana dopo settimana noi potremmo trovarci qui a dire una cosa diversa dall'altra sempre e io ho preso questa strada mi sono buttato su questa linea vi dico che ad oggi è impossibile per la juventus arrivare in champions league ve lo dico ma ve lo dico anche perché sono disposto a cambiare idea ma quando sarò disposto a cambiare idea del terzo bravo che dico ad allegri perché sono cose che condivido sentire allegri che dice cose che anch'io penso mi fa piacere ne parliamo poi il 28 di febbraio perché c'è un mese di gennaio un mese di febbraio allucinanti parlare oggi pensare oggi fare tabelle oggi raccontare oggi non serve a niente mi dispiace ma non serve non serve a niente poi al termine del giorno d'andata quindi dopo il cagliari potremo fare un bel riassunto generale faremo il pagellone faremo faremo tutto cioè racconteremo la prima parte di stagione della juventus nei dettagli ma quella prima parte di stagione non significa niente sulla seconda parte guardate men che meno men che meno perché poi la juventus io adesso ve la butto qui allegri cos'è che ci ha detto qualche partita fa ci sono partite da giocare che sono quelle contro le big e partite da vincere che sono quelle contro le squadre minori no col sassuolo quella non era una partita da giocare una partita da vincere l'hai persa nemmeno pareggiata l'hai persa all'ultimo secondo in casa tua che cosa significa che per allegri ci sono delle partite che sono proprio i big match e gli scontri diretti che solitamente è importante non perdere per poi vincere quelle altre infatti allegri cos'è che ci sta dicendo da qualche giornata questa parte udinese empoli sassuolo e la sverona venezia due punti su 15 con tutto il rispetto per le squadre di quel livello lì ma lì la juventus deve fare tre punti e aggiungo io è ovvio che se non le vinci quelle lì le responsabilità dell'allenatore diventano alte perché io capisco che questa juventus non abbia una rosa ottima come ve lo ripeto non ci credo ci stanno facendo credere dai tesserati juve ma un conto è se perdi gli scontri diretti contro squadre che magari sono più in forma di te hanno una rosa migliore da tua in questo momento e ci sta ma di queste cinque con anche eventualmente il Verone e Sassuolo che hanno delle storie diverse dalle altre tre non le devi perdere devi far tre punti nemmeno pareggiare e il Cagliari domani è una di quelle squadre che si mette qui dentro come lo era il Bologna perché io col Bologna ve l'ho detto tranquillamente è stata una brutta partita ma dovevi fare tre punti nella nebbia nella difficoltà degli squalificati e in una giornata in cui l'Atalanta aveva appena perso con la Roma e il Milan giocava contro il Napoli perché sono quelle lì le giornate in cui devi rosicchiare qualcosina e se guardiamo l'ultimo mese la juventus sta prendendo tanti punti a quelle lì e per quello quei due punti a Venezia santo il signore santo il signore ma lasciamoli da parte e guardiamo il Cagliari domani che è da vincere la prestazione ragazzi non sono qui a dirvi che sicuramente vinceremo 10 a 0 perché questa squadra è una squadra con delle difficoltà e rimane una squadra con delle difficoltà fino a che sul mercato non si andrà a intervenire per aggiustare quelli che sono i limiti strutturali di questa rosa e ce ne sono tanti e abbiamo già detti ma questa rosa ha dei problemi quindi domani non è che mi aspetto la goleada io lo spero l'ho detto anche da Kino sarebbe il modo migliore per finire l'anno perché nell'andata ne hai fatte 0 di goleade 0 e quindi ti serve anche a livello psicologico ti serve è necessario contro una squadra in difficoltà il Cagliari ma che ve lo ripeto ha tutto da guadagnare niente da perdere chi c'ha da perdere siamo noi quindi domani vinciamo 1 a 0 al novantesimo con autogol del portiere sarò sincero e onesto con voi nel dirvi che abbiamo fatto una partitaccia e che abbiamo vinto a fortuna all'ultimo secondo ma sarò contentissimo dei tre punti mentalità arretrata mentalità che volete ditemi quello che volete io domani voglio i tre punti poi se ovvio arriva la goleada dato che non l'abbiamo ancora fatta e ci servirebbe anche per dare un segnale a quegli altri sono il primo a essere contento ma non è quello che cerco domani domani cerco tre punti che ci fanno chiudere in bellezza il 2021 tragico per la Juventus pronti a iniziare nel 2022 carichi con una serie di scontri diretti difficili e prima vi dicevo no allegri ci sono delle partite da giocare delle partite da vincere quelle da giocare sono gli scontri diretti che anche lì hai fatto due punti napoli milan inter atalanta fatto due punti eh due punti e se erano da giocare e poi eventualmente il pareggio poteva anche andare bene ora non è più così perché devi vincere col Cagliari e devi iniziare a vincere degli scontri diretti vincere degli scontri diretti che ti fa allungare in classifica e ti fa rivalutare tutto per quello oggi è impossibile dirvi arriveremo in Champions o non arriveremo in Champions ci sono 40 50 60 giorni di fuoco dove possiamo diventare dei mostri incredibili che si piazzano tra il secondo il terzo e il quarto posto o una squadra allucinante che sprofonda in maniera verticale verso il centro della classifica o verso il fondo della classifica perché adesso dipende da noi sempre quelli con due pollici che si indicano da noi da noi da noi a partire da domani col Cagliari che tutti stanno facendo la valigia i pandori le cene sì ma domani sera si gioca col Cagliari e rispetto per il Cagliari domani sera senza la supponenza di andare in campo dire sì ma noi se la Juventus guarda questo Cagliari perché ve lo ripeto due punti in quelle cinque partite due punti in quelle cinque partite cervello acceso modalità on l'off l'abbiamo già utilizzato troppo quest'anno e poi dovesse arrivare un regalino di Natale da quegli altri su cui dobbiamo fare la corsa noi che potrebbero invece inserirlo su off che non so dai pensate un attimino all'albero di Natale quelle robe lì le cene in famiglia tipo il Napoli ieri si è mangiato la pizza mentre tornava da San Siro cose belle anzi io farei mangiare una pizza al Napoli anche nel pre partita ma lo stesso anche al Milan, Atalanta non so quello che si mangia a Milano, a Bergamo il piatto tipico, mangiatevelo prima la partita tagliate la fetta di Pandora, di Panettone negli spogliatoi prima di scendere in campo che tanto ormai invece noi no noi concentrati noi lì con la testa perché una settimana la corsa è sull'Atalanta la settimana dopo sul Napoli oggi leggo che la corsa è sul Milan la corsa è sulla Juventus la Juventus fa la corsa sulla Juventus perché se gli altri perdano punti e tu non ne approfitti e pareggia Venezia la colpa è tua la colpa è tua e tu ora non hai più possibilità non hai più margine di errore ma neanche allo 0,001% per quello che vi dico sogno la goleada domani col Cagliari sì lo voglio me l'aspetto non ne sono così convinto anzi mi aspetto una partita davvero nella quale domani live su Twitch saremo tesi in sofferenza un po' delusi ma dove alla fine però dovremmo dire cavolo cavolo Alexa sì ok cavolo tre punti tre punti col Cagliari che ti fanno concludere nei migliori dei modi l'annata ve lo ricordate l'anno scorso 365 giorni fa una giornata in cui ci annullano il ricorso con il Napoli vince il Napoli il ricorso e ci annullano 3-0 a tavolino perché non si erano presentati e quindi meno tre punti dopo poche ore giochiamo con la Fiorentina è espulso a quadrado ce ne danno tre in casa nostra in quella giornata abbiamo perso sei punti in quella giornata abbiamo perso sei punti giocando 90 minuti e abbiamo concluso il 2020 in una maniera tremenda dopo un anno tremendo il 2021 non è stato fantastico possiamo chiuderlo bene già è stato un anno disastroso dentro e fuori dal campo possiamo chiuderlo bene possiamo iniziare il 2022 nel migliore dei modi perché se non iniziamo il 2022 nel migliore dei modi c'è niente da fare c'è niente da fare puoi soltanto piangere sul latte versato prendere la tua lista dei rimpianti allungarla allungarla prendi carta e penna e continui a scrivere perché poi è colpa tua e quindi domani che cosa ci aspettiamo i Juventus Cagliari tutti insieme in coro tre punti tre punti poi la prestazione c'è tempo per sistemarla la prestazione è lì si trova nel 30 hanno detto dopo c'è la Befana che c'è già il Napoli c'è tempo come c'è il mercato perché c'è il mercato ci sarà il mercato parola di Lupetto che lo ribadisco non è che ve lo giuro perché mi hanno detto che perché non posso pensare che la Juventus in questa situazione non metta mano al mercato non posso pensarlo e quindi vai dai dai perché la mia linea è quella utopia la Champions League non ci credo minimamente ma so anche che è tutto aperto perfettamente aperto e il brutto è che non ci credo perché non credo che la Juventus possa fare questo filotto incredibile tra gennaio e febbraio ma ancora una volta sono pronto a rimangiarmi tutto a ricredermi a seconda di quello che vedo a seconda di quello che dirà il campo a seconda di quelli che saranno i risultati perché gira che ti rigira possiamo parlare di tutto possiamo dire che abbiamo preferenze a seconda del gioco a seconda del calciatore quello che vogliamo ma la classifica il campo è il giudice più severo di tutti perché se domani sera facciamo una bella prestazione col Cagliari e non vinciamo sapete come le passiamo le feste di Natale ve lo devo proprio dire non bene a seconda del calciatore e non vinciamo a seconda del calciatore